Sofia Zoppi, attaccante dell'Allas Verona Women Primavera, il Verona vince questo recupero, una bella partita 5-1, un po' più di difficoltà nel secondo tempo? Sì, una partita comunque abbastanza difficile sul finale, inizialmente abbiamo giocato di squadra, però poi verso la fine anche un po' di carenza fisica si è sentita. Ecco, un primo tempo in cui è funzionato molto bene il vostro pressing sull'impostazione del Cittadella e siete girate molto bene anche voi tre lì davanti. Sì, è stata una partita impostata sul pressing verso i difensori e abbiamo cercato di dare il meglio. Adesso subito concentrata perché si ritorna in campo prestissimo. Certo, questa domenica.